Domani, giovedì 16 dicembre, sciopero generale di 8 ore indetto da CGL e Will per i lavoratori sia pubblici sia privati. Previste però alcune esclusioni. Non si ferma ad esempio la sanità esonerata sin dall'inizio e neppure la scuola, che ha già incrociato le braccia venerdì 10 dicembre scorso. Escruse anche i settori delle poste, alle prese con la scadenza del pagamento IMU oltre ai servizi ambientali. Si fermano invece i trasporti, ad eccezione di alcuni servizi e aziende a livello territoriale. Le motivazioni dello sciopero riguarderebbero la rottura del tavolo con il governo sul tema della riforma fiscale. Noi riteniamo che il disegno delle nuove aliquote debba privilegiare i redditi più bassi e non ovviamente penalizzarli e su questo abbiamo detto a Draghi e al governo che così come sono disegnate le nuove aliquote non vanno bene. Altro tema fondamentale è quello del precariato che la pandemia ha amplificato notevolmente. Noi dobbiamo superare in questo paese la precarietà del lavoro che è soprattutto legata alle nuove generazioni e dare alle nuove generazioni un percorso lavorativo certo in modo tale da potersi costruire una vita individuale e collettiva il più possibile stabile, certa e duratura. Insieme per la giustizia è lo slogan che accompagnerà la mobilitazione che prevede anche manifestazioni in cinque piazze italiane a Milano, Bari, Cagliari, Palermo e a Roma. Nella capitale in piazza del popolo l'intervento dei segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Dall'Abruzzo verso Roma partiranno 30 pullman. Io chiedo alle lavoratrici e ai lavoratori di aderire allo sciopero, ai pensionati di scendere in piazza con noi, ai precari di scendere in piazza con noi, stare vicino tutti quanti insieme per far sì che quella parte più debole del nostro paese possa avere le giuste risposte proprio in un momento di grande difficoltà che la pandemia si è trascinata dietro.